un saluto a tutti amici del canale franky 2788 come provesso per voi oggi vi porterò queste 32 carte che ho mandato a grad mi sono tornate oggi stesso come vi avevo anticipato nel sondaggio del canale allora partiamo subito io ho diviso già le carte nelle due pile dalla diciamo così dalla tra virgolette meno importante alla più importante le ho già tolte dai cartoncini così facciamo molto prima ragazzi perché l'altra volta venne un video lunghissimo e sinceramente non voglio farvi perdere tanto tempo perché comunque la ciccia sta in queste due pile partiamo subito ragazzi molto velocemente allora ecco qua le prime due carte una sigillata e non un'altra aperta da me mandata direttamente ancora sigillata nell'involucro a grad tutte e due purtroppo mi hanno preso nove queste qui sono molto difficili da prendere 10 perché sono carte che vengono stampate veramente male c'hanno sempre i difettucci e comunque nonostante questo sono sempre near mint to mint anzi scusatemi queste sono mint non sono otto sono nove quindi perfetto non ci lamentiamo dai ragazzi 9 sempre un ottimo voto stessa cosa per queste due allora l'italiana la comprai l'anno scorso su un gruppo pokemon sigillata e l'ho aperta però purtroppo da come potete vedere dal video è abbastanza decentratia decentrata scusatemi anzi decentratissima veramente quasi miscut e vabbè ha preso nove poi questa qui inglese sempre nove meno decentrata ma comunque decentrata peccato peccato perché queste qua ripeto ragazzi prendere 10 su queste carte è veramente molto difficile poi qui secondo voi secondo voi cosa potremmo mai avere questa carta si spoilerà da sola già dal back ed è mio antico questa mi ha preso otto sono molto contento perché comunque un otto non è male ragazzi dall'otto in poi sono sempre bei voti perché anche anche il sette perché il sette ricordiamo è sempre near mint mentre l'otto è near mint to mint ok noi magari non ci facciamo tanto caso e l'otto non non lo diamo di buon occhio ma comunque è sempre near mint to mint ragazzi quindi non va mai sottovalutato poi partiamo con questa qui a bomba ragazzi perché questa è bellissima è aerodactyl del set fossil in italiano mi ha preso sempre un bellotto questo lo sbusta io carta veramente bellissima ah ragazzi mi fermo un attimino per spiegarvi che queste alcune di queste carte non tutte e 32 le metterò in vendita quindi se mi seguite andate sul mio subito se state guardando questo video andate sul nella descrizione trovate il mio link al mio negozio ebay quindi da lì se siete interessati ad acquistare alcune di queste carte le troverete lì o nei principali gruppi pokemon tipo pokemon station prestige eccetera eccetera quest'altra qui è sempre del set fossil hunter bellissima sempre un near mint to mint quindi quasi perfetta purtroppo queste prendere un voto 9 10 è veramente molto molto difficile anche se queste le sbuste io però si parla di comunque una sbustata di 7 8 anni fa ragazzi molto molto difficile quindi nonostante le avessi tutte nel binder con la sleeve appena sbustate è difficile perché comunque si deteriora un po la la qualità della carta quindi adesso abbiamo moltres del set fossil anche lui 8 molto molto bene sono molto contento di questi voti ahimè ragazzi io le ho dovuti vedere perché purtroppo non ce la facevo c'erano da un mese ce l'aveva in mano anzi da un mese e mezzo quasi ce l'aveva in mano grad purtroppo non ho resistito quindi le ho dovute controllare appena mi sono arrivate oggi perché non ce l'ho fatta ad aspettare ragazzi veramente fremevo dalla voglia di sapere perché ragazzi penso che sappiate anche voi che abbastanza difficile aspettare quando si hanno si danno in mano ad altri le proprie carte e diciamo che l'ansia di sapere il voto è veramente veramente difficile da combattere quindi ho resistito già troppo un mese e mezzo già abbastanza quindi mi dispiace ma voi non li conoscete i voti quindi è un discorso mio ok questa è un'altra del set fossil zapdos grandissimo un altro 8 questa è una delle più belle del set ragazzi veramente molto molto bella poi andiamo avanti e abbiamo questa è bellissima questa è del set del vabbè sono tutte fanno parte della mia collezione però alcune le venderò tranne questa e qui c'è anche l'errore della dell'energia print irregularity molto probabilmente si riferisce al fatto che vediamo se riesco a zoomare ecco qui vedete l'energia non è fuoco qua ma è lotta quindi è l'errore di stampa purtroppo nonostante questo questo errore è più comune trovare questa qui con l'errore dell'energia combattimento piuttosto che l'energia fuoco a blaze charizard ovvero è più rara la ristampa che la prima stampa ma questa è veramente una cosa stranissima però è così poiché sono state stampate molte più copie di questa qui con l'errore che quella la senza diciamo quella la con l'energia corretta insomma ok queste sette ragazzi questa qui purtroppo non l'ho mai non sono mai riuscito a sbustarla nonostante avessi aperto se andate a vedere nel mio canale scorrete video ho aperto parecchie parecchie bustine del set gym challenge però purtroppo questa non sono mai riuscito a trovarla e per completare il set la comprai all'epoca da un negozio americano e la pagai tipo 30 31 dollari compresa spedizione e ci sta nermint grande ottima anche se questa mi veniva definita come excellent dal venditore sono piuttosto contento perché invece di prendere un 6 ha preso un 7 che è nermint quindi ottimo good game for me ebbene queste qui invece ragazzi sono giappo del 99 quindi 99 2000 se non sbaglio mi sembra 99 e vi faccio vedere subito che l'etichetta purtroppo grad me l'ha sbagliata ovvero queste qui le ho spacchettate praticamente dal binder del neo premium file 1 praticamente grad invece di mettermi nonostante io avessi descritto che queste mi sono uscite da lì nell'ordine mi hanno messo il set praticamente mi hanno nella descrizione mi hanno messo il set neogenesis in giapponese andiamo adesso vi zoom un attimino così vi faccio leggere gold silver to a new world del 1999 sì quindi ricordavo bene purtroppo queste qua le devo me le devo mandare di nuovo a grad per farmele sistemare perché non fanno parte del c'è c'è una bella differenza di di rarità di rarità scusatemi tra le due cose che queste fanno parte del neo premium file 1 e abbiamo quindi meganium che ha preso 8 peccato adesso vi farò vedere perché effluge non ha preso 9 e anche ferrari gator mi ha preso 9 se fosse stato un bel trio di 9 sarebbe stata cioè perfetta però purtroppo ma preso l'otto quella lì è peccato veramente peccato poi dovrò andare a vedere con calma i subgrades così vedrò qual è il problema del fatto che comunque questa abbia preso un 8 e non 9 ma è comunque un near mint to mint quindi siamo lì lì per prendere lo stesso voto peccato peccato veramente peccato ok ragazzi passiamo avanti e abbiamo questo youtube coreano che andrò a mettere in vendita questo qui ebbene sì adesso non so ancora i prezzi ragazzi però sicuramente se andrei se quando caricherò il video lo vedrete in vendita sicuramente sul mio negozio quindi se siete interessati vedete andare uno sguardo lì oppure sei sui principali gruppi pokemon grande questa è veramente molto molto bella vediamo bellissimo questo incapsulato una delle carte più belle degli ultimi set sempre il maestro mitsuhiro arita grande mi ha preso 9 quindi mint ottimo questa l'ho comprata da un ragazzo su ebay veramente molto molto bella poi andiamo con questa che già po grande grandissima questa questa l'ho comprata sempre da un ragazzo tipo due tre settimane fa da ebay e mi ha preso gemmint 10 bellissimo questa ragazzi infatti il ragazzo me l'aveva detto che era pack to sleep praticamente bellissima diamo uno sguardo a questa carta che è veramente bellissima ragazzi grande ok questa di questa sono veramente contento che abbia preso 10 e questa rimane nella mia collezione non la venderò eh ragazzi poi abbiamo questa bomba ragazzi veramente una bomba ad orologeria questa qui praticamente una bomba ad orologeria questa allora vi racconto la storia di questa carta molto in breve la comprai cioè praticamente comprai il break starter pack del 2016 da amazon giapponese infatti trovate sempre il video della spacchettata sul mio canale se siete interessati praticamente nonostante l'avessi aperta cinque anni fa questa questa carta l'avessi sbustata cinque anni fa e mi fosse uscita dal dal mazzo diciamo la ristampa del mazzo tematico del set base mi ha preso 10 nonostante i cinque anni trascorsi io praticamente sono un collezionista molto molto pignolo pack to sleep la carta quindi e poi messa nel binder e dimenticata per tutto il resto finché non l'ho mandata a gradare quindi ci sta che abbia preso il 10 però tanto tanta roba ragazzi bellissima soffermiamoci un po su questo artwork pazzesco ragazzi giapponese di charizard x bellissima ok la prima pila l'abbiamo terminata la facciamo passare in secondo piano e passiamo a questa qui ragazzi ok 3 2 1 qui cosa c'è è il charizard v del v max battle star triple starter set che mi ha preso purtroppo 8 perché se notate questo è anche a vista d'occhio è molto molto decentrato se vede il bordo sinistro rispetto al bordo destro c'è una bella differenza questo è molto più cicciotto mentre questo è molto più sottile diciamo che praticamente questo si è boffato mentre questo ha fatto la dita scusate ragazzi sto scherzando però anche il retro è messo nelle stesse condizioni questo lato questo bordo è più cicciottello di questo qui peccato che mi ha preso 8 ma è sempre un air mint to mint ragazzi quindi non disperiamo e questa va sempre in vendita poi abbiamo le medesime carte penso che siano tutte così perché non mandate più copie e sono tutte 9 9 9 prendere il 10 su questa qui ragazzi è veramente veramente difficile io di tutte quelle che ho mandato anche precedentemente nell'ultima volta mi sembra che quella la che abbia preso 10 è l'unica e quella la che ho aperto io dal set di fiamme oscure se non sbaglio in italiano quindi sono molto più contento perché quella la in italiano e lo sbustata io anche queste si le ho aperte io dal triple starter set però comunque la sbustata del pacchetto singolo è molto più bella fatevelo dire ragazzi quindi anche queste qui andranno in vendita se siete interessati le troverete sempre sul link ebay che vi lascio nella descrizione di questo video poi abbiamo sempre il lugia del v max battle triple starter set la promo olografica che ha preso 9 mint e poi questa qui 10 questa qui non la venderò mentre questa si questa qui mi rimane in collezione questa qui le mettere in medita perfetto ragazzi sono molto contento questo luogo è veramente pazzesco forse un artwork veramente sottovalutato ma questa carta essendo già solo una promo già vale di per sé però l'artwork è veramente spaziale ragazzi veramente merita tantissimo ok passiamo abbiamo quasi finito questo video è stato abbastanza veloce rispetto all'ultima volta perché sono rimaste solo queste carte quindi manca poco eccola la bomba questo è il charizard v max full art del sempre del v max battle triple starter set che ho aperto tipo un mesetto e mezzo fa se non sbaglio e poi abbiamo venusaur v max quindi queste qui andranno in vendita 9 e 9 soffermiamoci un po ragazzi perché sono troppo veloce questo è vero però eh sì allora se notate magari il charizard non vedo questa tanto questa differenza di decentratura poi dovrò andarmi a vedere con calma i ragazzi i sub grades così valuterò bene però questa qui mi sembra un po decentrata rispetto all'angolo questo qua il sinistro un po più sì effettivamente decentrata questa ha preso 9 comunque mint ragazzi non dimentichiamo che il 9 non è un brutto voto assolutamente è mint ragazzi già mint è molto difficile prenderlo da grad perché come sapete sono molto molto severi ragazzi quindi un 9 già già è tantissimo eccola qua la bomba 10 questa è un 10 poi abbiamo il 9 che è il blastoise poi abbiamo un altro blastoise preso 10 queste qua le ho mandate in doppia copia perché come sapete dal triple starter set ne escono due quindi due v max e due v ovviamente delle vie ho mandato solo il charizard che è quello che ha un po più mercato rispetto a blastoise e venusaur che anche se gradate e dovessero difficilmente prendono il 10 col 9 ci avrei fatto pochissimo non sarebbe valsa la pena infatti quel charizard v che ha preso 8 ahimè dovrò metterlo a un prezzo veramente bassissimo quindi ragazzi aizzate le antenne e state molto attenti ai prezzi che metterò perché saranno prezzi veramente molto molto competitivi quindi state molto molto attenti questi qua li metterò sia sui gruppi che nell'asta ebay ovviamente se la venderò prima della dello scadere dell'asta ad un prezzo che mi fa comodo la venderò prima che scada l'asta se poi ovviamente la metterò nei gruppi e entro il lasso di tempo non riuscirò a venderla e la venderò ovviamente all'asta quindi state molto attenti al mio negozio ebay che oltre a queste qui ho anche altre carte singole quindi ok io vi abbiartiti ragazzi poi fate voi ok poi abbiamo e questa è un'altra bomba ragazzi dal set wild blades x y bellissima prima edizione charizard x che mi ha preso 9 mint questa se non sbaglio me l'ha regalata la mia amica serena questa l'ho mandata a gradare questa qua rimane con me nella collezione perché questa è veramente spaziale ragazzi bellissima prima edizione giapponese tanta roba questa qui ragazzi il 9 mint veramente tanta tanta roba poi abbiamo a seguire la versione mega del charizard questa è la versione x se non sbaglio si grandissimo ragazzi sempre prima edizione sempre regalata la mia amica serena del wild blades che ha spacchettato stesso lei all'epoca veramente tanta roba sempre 9 quindi serie se stai guardando il video sia orgogliosa delle tue carte perché hanno preso un bel 9 ragazzi veramente tanta roba veramente tanta roba queste rimarranno tutte e due nella mia collezione sono veramente bellissime quindi non le venderò non me le chiedete perché non saranno in mente da queste due poi abbiamo questo qui il mega charizard x mega battle deck che ho aperto io all'epoca e infatti il 2014 mi sembra che comprai questo qui il deck lo ho presi da si amazon da scusate ebay spaziale spaziale veramente questo qui e infatti c'è il suo gemello in versione mega y la mega produzione y di charizard che ha preso 10 è veramente tanta roba questa qui tutte e due giapponesi tutte e due sbustate da me il 2014 quindi ragazzi queste carte hanno 7 anni ragazzi 7 anni guardate lì 9 e 10 cioè questa qui è veramente cioè questa merita un monumento perché nonostante avesse 7 anni mi ha preso il 10 ragazzi è vero è pack to sleeve e poi messa nel binder per tutti questi 7 anni però è veramente difficile prendere il 10 su queste carte ragazzi significa che è veramente è centratissima messa benissimo e poi chi mi conosce sa che sono abbastanza menacale su queste cose le le carte proprio bisogna avere abbastanza cura quindi veramente il 10 e tanta roba ok abbiamo l'ultima carta ragazzi 3 2 1 voilà grande questa sempre del starter pack quindi sarebbe la gemella di questa qui che ho aperte sempre io tutte e due gemmint 10 ragazzi veramente cioè una bomba esplosiva veramente è una bomba atomica queste due carte mamma mia tanta roba ragazzi nonostante le avesse aperte circa sì nel 2016 5 anni fa del 20esimo anniversario vedete il mazzo tematico la ristampa del praticamente di evoluzioni sarebbe mamma mia tanta roba ragazzi 10 e 10 beh queste qui comunque non le venderò ragazzi assolutamente perché queste sono veramente sono storiche queste qua veramente tanta tanta roba ok ragazzi io per questo video ho finito spero che vi sia piaciuto anche se comunque dal sondaggio dall'ultimo sondaggio che avevo fatto molti non erano tanto d'accordo con il video vabbè comunque sti cavoli ragazzi perché io l'avrei fatto comunque il video nonostante ciò spero che vi sia piaciuto ricordo se siete interessati ad alcune carte non me le chiedete in privato su youtube perché non le venderò su youtube ho un negozio apposito su ebay quindi se siete interessati andate sul link che trovate in descrizione del mio negozio ebay e vedete spulciatevi le carte che volete e che troverete in medita saranno solo quelle lì se altre che avete visto in questo video non saranno messe è perché non voglio venderle ok quindi non me le chiedete io penso di aver parlato anche abbastanza noi ci vediamo in un prossimo video vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un bel like se vi piaciuto il video altrimenti un dislike se non vi è piaciuto ok ragazzi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video vi auguro una buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti